Io, visto che sono una brava persona, sponsorizzo pure te che mi hai scritto quel commento. Link in descrizione. Cosa voleva intendere uno? Tu non scrivi, non scrivi, non scrivi. Ciao a tutti, questo video di protesta contro una persona su Youtube, si chiama Katia Galli con la K, io sto lì, mi so guardato il video di Lion, ieri sì perché è quello da Mongasi, lo guardo, state zitti, che scrive BM nei commenti, lo prendo, lo segnalo, lo fanno ciobannare da Youtube. Come fa da Long Gamer, tu spoileri, ti banno, tu inciti all'odio, ti banno, poi io, facile, trovo chi commenta male, perché ho così pochi follower e poca gente che scrive i commenti, quindi appena mi arriva un commento brutto, io prendo il segnale e faccio bannare. Capito? Prima cosa, io in tutti i video di Lion, abbastanza belli, dove c'è un elevato livello di cringe, scrivo cringe is over 9000. Tre mesi, no, quant'era? Tre mesi fa ho scritto un commento così, in un video dove c'era anche Giorgio, che si iniziava, si iniziava subito con la The Bad Nauts. Si iniziava subito così, con la The Bad Nauts, e ho scritto cringe is over 9000, arriva Lion e mi mette il cuoricino. Ho fatto così pure in un video di Cut Xe, mi ha messo pure là il cuoricino. Quindi, poi resta qua che mi dice che sono hater io. Io hater, io. Che io gli hater ce li ho e basta. Eh, io non faccio hater a nessuno, sono gli hater che fanno... Avete capito tutti quello che ho detto? Punto e basta. Comunque, io hater non sono mai stato, non sono. Al massimo sono io che sono pieno di hater sul mio canale. Che gli hater si iscrivono al mio canale perché li faccio pena. Eh. Quindi, devo dire una cosa a te. Allora, Katia Galli. È possibile che tu sia pure più piccola di me? Hm? Perché io ho 16 anni. Quindi. Se sei più piccola di me porta rispetto ai più grandi. Perché... Se non porti rispetto ai più grandi succedono cose brutte, tipo... Non danni i soldi della paghetta. Comunque, tipo, anche dieci anni fa si portava rispetto ai più grandi. Vabbè. Qui adesso tutti fanno quello che vogliono. Perché siamo in un mondo schivoso. Soprattutto l'Italia che... I ministri non sanno fare i ministri. Comunque. Se anche voi volete Slime Rancher per Nintendo Switch, fermate la petizione che nel video di Slime Rancher è dedicato. Se volete scaricare... Se volete scrivolo io per tutti i software che hanno... Per tutti i dispositivi che hanno Chrome, link in descrizione. Se volete Gmod per Windows 10, link in descrizione. Se c'è il copyright, basta andare giù in fondo nella descrizione, c'è scritto se c'è il copo o se non c'è il copo. Perché se non c'è il copo scrivo no copo. Se c'è il copo metto il link della canzone. Calcuno sono pure belle. Infatti mi sa che qui sotto metto pure il link di una canzone. Perché metto... Metto intro, benvenuti nel 2012. Comunque. Comunque. Al buio state. Comunque. Ragazzi. Dopo bei 4 minuti di video. Blocco il video. No, ancora 2 minuti. Quando scadranno questi 2 minuti. Blu blu blu. Sei nascosto nell'oscurità. La luce arriverà. E chi mi scrive bm nei commenti. Lo dico di nuovo. Sarà bannato da YouTube. Nel mio canale ovviamente. E già. Se volete altri video su altra roba. Scrivete nei commenti. Perché ho portato Dragon Ball. Dragon Ball Engine. Dragon Ball Xenoverse 2. Però ormai non ho giocato tutti. Tutti sanno com'è quindi. Rocket League. Ce l'ho. E nel Nintendo. Poi. Spyro la trilogia. Potrei creare un nuovo salvataggio. Ricominciarlo da capo. Prima il primo livello. Poi il secondo livello. Poi il terzo livello. Che sono tre. Non dico livelli. Dico. Prima. Primo disco. Secondo disco. Terzo disco. Anche se non intendo. Ci vanno le schedine. Io ne ho schedina. C'ho tre giochi. Fortnite. Anche no. C'ho Pokémon Master. Beh. Poi ho i Outwills. Ries off. Nei telefoni. Uno. Uno che potrei portarlo. Insieme ai miei fratelli. Sì. Sì. Ottima idea. Poi cos'altro. C'ho 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 c'ho. Pokémon Go. Ma ormai non lo vedo. Comunque. Se volete iscrivervi ai canali. Dei miei fratelli. Dei miei amici. Link in descrizione. Sia dei canali Twitch. Che YouTube. E. I TikTok miei e dei miei fratelli. Perché gli altri. Non ce la faccio a recuperarli. Credo che siano finiti i due minuti. Si spengono le luci. Che qui. Non ho un porto soldi. Non devo spendere i soldi. Spegniamo le luci. Bellissimo. Quindi credo che. Abbiamo superato pure i due minuti che avevo detto. Quindi devo entrare. Non a parte. Quindi. Ragazzi. Io. Inizio. A. Fare un'altra cosa. Vi saluto. Ciao. Questo video verrà pubblicato. Il 6. No. Il 15. Gennaio del 2021. Alle. Insomma le 5. Anche se lo sto registrando alle 9 di mattina. Verrà pubblicato alle 5. E a te Katia Galli. Quindi dico. Smettila di iscrivere. Se non sai uno cosa intende nelle sue frasi. Tu non scrivi. Non scrivi. Non scrivi. Capito? Se non sai il senso della frase. O se no. Ti faccio bannare dal mio. Canale. Comunque vi saluto. Ciao. Dos. Vi saluto. Grazie a tutti.